ben tornati amici smokers nel video di oggi da come si vince dal titolo vi parlerò di cambusa e abitudini connesse a farvi compagnia sono con la mia fantastica Ashton Old Church con un ottimo Channens Cake le nostre cambuse la parola deriva ormai da anni e da secoli dalle scorte che si facevano i marinai nella stiva per affrontare dei lunghi viaggi comprese scorte comprese dei tabacchi ma adottata a piena regola dai fumatori di pipa successivamente e anche da noi usualmente non credo esistano se esistano saranno talmente pochi fumatori che con di pipa che comprano il tabacco al momento al bisogno o non sempre tutte le tabaccherie di tabacchi sono portati in mano quindi quando si va dal tabaccaio si compra più di un tabacco o comunque sia dopo si conservano si ha voglia di provarli altri eccetera eccetera ma questa sarebbe chiamiamola una cambusa ordinaria al minimo sindacale ma oggigiorno cosa è diventata si vedono sempre di più nei social amici eccetera o esperienze personali delle cattine delle scorte molto grossi cambuse che diventano scorte ma anche cantini ma questo perché secondo me è dovuto prevalentemente da tre motivi principali per primo il fattore economico i continui aumenti dei prezzi quindi un fumatore di pipa può pensare di comparne per tutto l'anno e risparmierà i soldi degli aumenti annuali questo paradossalmente si potrebbe applicare anche alle sigarette perché chi fuma un pacchetto di sigarette al giorno se è solo un pacchetto se ne comprasse 365 e aumenta di un euro sicuro l'anno il pacchetto di sigarette risparmierebbe 365 euro l'anno ma questo con i tabacchi da viva potrebbe essere essere sicuramente maggiore quindi è un fattore anche economico dopodiché la seconda motivazione è la maturazione di alcuni tabacchi soprattutto quelli con il più alto contenuto di zuccheri come come virginia ma si dice anche le m maturino continuano a maturare in realtà più che maturare è un processo di fermentazione che continua e va a migliorare il tabacco questo è stato sperimentato da fumatori con la propria esperienza durante gli anni si stima addirittura che un tabacco arrivi a maturare a rilasciare la sua massima espressione dopo cinque anni per poi stabilizzarsi quindi in molti lo fanno per assaporare al meglio la propria miscela preferita comprano e conservano e mettono da parte il terzo motivo è la riperibilità di tabacchi molti tabacchi non oltre a subire notevoli rincari di prezzi non vengono più prodotti o non vengono più importati cosa ne pensate cosa dire del samuel gewitt per esempio no due anni fa non li hanno più importati più di qualcuno lo scriveva nei social non vi preoccupate li rintrodurranno forse con un ammetto ma li devono rintrodurre per forza e magari potrà ancora convenire comprare il bulk ma allo stato attuale non sono ancora tornati non penso che torneranno basti pensare che non importaranno neanche più in svizzera che ne pensate e per non parlare di altre miscele daniele quelle che hanno chiuso altre che non arrivano proprio più per non parlare ecco dei prezzi italiani basti pensare al mercato tedesco dove i Mc barren stanno a 14 euro i solani stanno a 11 euro 12 contro i 30 dell'italia e lo stessa cosa ci sono gli HU a 11 euro anzi 21 euro un etto chi ha la possibilità si fa portare nei limiti della legge nei limiti di consentire la legge comunque sia ci si fa una scorta o ci si crea comunque sia una piccola cattina dove poter assaporare negli anni dei tabacchi e nel caso non vengano addirittura più prodotti continuarli continuano a godere le proprie miscele preferite per altri non so 4 o 5 anni per quanta scorta si sia fatta e voi che tipi siete da cambusa ordinaria o da scorta o da cantina io personalmente penso che dipende da quanta importanza il fumatore da ai tabacchi ai tabacchi a questo suo vizio c'è sicuramente più di qualcuno che non ha neanche la cambusa va bene così poi per chi gli dà una importanza maggiore secondo me è proprio conveniente farsi una scorta o una cantina proprio in funzione di quanto ci dato per una questione economica di risparmiare chi mi segue ha visto dei video io come posso faccio scorte sto anche cominciando ad avere una cantina o dei tabacchi a maturare e fermentare da un paio d'anni da poco che la faccio però voglio continuare nel tempo perché oltre essere una scelta economica dove ci risparmio avrò la possibilità di assaggiare magari i tabacchi che sono migliorati avrò anche la possibilità di continuare a fumare delle miscele anche se non saranno più reperibili per diversi anni fatemi sapere voi cosa ne pensate perché sono mi interessa e intanto io brindo sempre alla vostra salute un po di grappa mi è rimasta cheers e come sempre a sito un vero per la serie si apaka a sta prossima amica smokers se sei arrivato fino a qui lasciami un bel like se mi vuoi venire a trovare sugli altri social in descrizione del canale troverai i link con l'accesso rapido ai miei profili se vuoi sostenere il canale lasciando un piccolo contributo anche un semplice caffè troverai anche il mio link paypal ciao